Soffre ma resiste, non perde, anche se ha penato e ringraziato Tommaso Scuffia. L'Ancona torna da Pordenone con un punto che fa classifica e pesa. Pesa parecchio perché è conquistato sul campo di una formazione accreditata per i discorsi di vertice e dopo il capo interno di una settimana fa contro il Gubbio. Proprio il numero uno d'orico è stato protagonista e negativo allora come decisivo stavolta, in un primo tempo di nulla, nel quale il Pordenone a tenere il possesso, scontrandosi puntualmente sul muro bianco-rosso, è l'Ancona ad avere le due occasioni migliori per il vantaggio. La prima è di Frediani, un attimo prima della mezz'ora, punizione da sinistra, con calcio diretto in porta ma Tomei è pronto e non si fa sorprendere serrando i pugni. La seconda al 35esimo, cross di Barilaro ed affara di via di testa senza dare forza né direzione alla palla. Il 16 bianco-rosso era entrato qualche istante prima al posto dell'infortunato Voltan che nell'undici iniziale Brini aveva scelto per sostituire l'infortunato De Silvestro. L'intervallo ricarica i padroni di casa che innestano arma, attaccante di razza, e Berrettoni rifinitore di categoria superiore. Del 9 marocchino la prima chance dopo tre minuti, conclusione con deviazione di Ricci e Scufia che smanaccia con un bel intervento in angolo la palombella. Al 54esimo ancora Pordenone, sponda di arma a destro a colpo sicuro di Pietribiasi ma Scufia è prodigioso, si allunga sulla sua destra e allontana. Al 62esimo di nuovo Pietribiasi pericoloso, controlla in area e incrocia di destro ma Scufia dice di no e mette i piedoni. Al 68esimo il portiere bianco-rosso legittima definitivamente la conquista della palma di migliore in campo salvando con il corpo pure su un'incursione di Cattaneo che gli si presenta a tu per tu. L'Ancona soffre ma regge, il cronometro scorre e in questo senso non è amico del Pordenone che però non demorde. 85esimo, Stefani calcia da fuori, Scufia si arrange e mette in angolo. Passano due minuti e Berrettoni spaventa i 12 con un tiro dal limite che finisce di poco sul fondo. L'ultimo brivido è di Misuracca che da dentro l'area piccola può regalare la vittoria ai suoi ma c'è Costa Dinovic a indirizzare la palla sopra la traversa. Si materializza così il pareggio che sa di successo per l'Ancona, un punto per ricominciare dopo essersela vista brutta per tutto il secondo tempo.